I want somebody, just beat it up for me, then take it down so there's nothing for balls I can hit the deck, just grab it from a baby sack, all you want Un successo grandissimo di questa serie, secondo te perché? Per l'attualità del tema o anche per il gusto dell'investigazione che hanno poi gli italiani? Credo che questo tipo di film, di serie così come ne hanno fatte in America oltre a SESA e tantissime altre in qualche modo abbiano, diciamo questo filone in qualche modo ha suscitato un interesse molto molto forte poi se si unisce al fatto, noi del RIS e Ficciolo cerchiamo di prendere spunto sempre veramente dalla realtà dall'archivio dei fatti veri dell'arma dei carabinieri e allora si può capire insomma come possa essere forte l'interesse insomma anche perché si parla di cose, di avvenimenti, successi nella realtà In che modo vi siete? Ovviamente c'è tutto l'aspetto dell'investigazione che è affascinante quello che avviene dietro le quinte, come si arriva alla soluzione del caso, lo studio l'analisi per arrivare alla soluzione questo, la gente è affascinata da questo Se tu non avessi fatto l'attore avresti fatto il capitano? Ma non lo so, intanto faccio l'attore e mi trovo bene diciamo a fare l'attore capitano Grazie a tutti